buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di top music quali saranno le classifiche di questa settimana ma soprattutto quali saranno le hit attraverso il vostro click e allora lo scopriremo solo in questa puntata e ricordate top music la tua musica portata di click sigla e partiamo con la nostra classifica degli album più venduti della settimana con la nostra top ten alla posizione numero 10 troviamo blind di chiara grisco reduce dal successo dell'ultima edizione di amici mentre alla posizione numero 9 troviamo un incredibile lisa con il suo nuovo album dal titolo on e alla posizione numero 8 che dire troviamo loro i vulcanici col duple con I had the fool of dreams vediamo i video i wanna love myself oh i wanna love everybody i wanna love myself baby i wanna love your body mi state divertendo passiamo alla posizione numero 7 troviamo the collection 5.0 dei magnifici pu mentre alla posizione numero 6 troviamo il nuovo album degli after hours e alla posizione numero 5 troviamo lui il zucchero con black cat vediamo i video non restare chiuso qui pensiero riempiti di sole e vai nel cielo posizione numero 4 troviamo un'altra rivelazione dell'ultima edizione di amici parlo di elodie e del suo album un'altra vita mentre alla posizione numero 3 troviamo lui e big boy da una voce incredibile ma soprattutto da una stazza incontrastabile e alla posizione numero 2 troviamo amon shape at the pool del radio head vediamo i video ci vorrebbe un'altra vita per amarti nuovamente liberarci del passato e non sbagliare niente per avere le certezze che non ho e dopo una grande classifica dei migliori album della stessa scopriamo chi sarà il vincitore di questa puntata loro sono un gruppo formidabile parliamo del nuovo album dal titolo the gateway e loro sono i red hot chili peppers vediamo il video vincitore di questa settimana video e siamo giunti al termine di questa puntata spero vi siate divertiti al ritmo di musica ricordiamo se sei un artista un cantante o una band puoi proporti anche tu agli indirizzi in sovraimpressione ed essere chissà forse la nuova proposta della settimana noi vi lasciamo con un lancio partenopeo parliamo di toni cercola e in compagnia di pachi palmieri hanno fatto un brano molto molto particolare ricordiamo toni cercola un grande musicisto che ha collaborato con i più grandi della musica italiana e non solo tra questi un grande pino daniele edoardo bennato e perché no anche una star internazionale brian ferri allora noi vi lasciamo con l'umumba in compagnia di toni cercola e ricordate top music e la tua musica portata di clip ciao buona 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 buona